No, 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 chiudi, chi è? Ti stai riprendendo? Ti stai riprendendo? Chiudi! Guarda, è pronto per andare in guerra! Ma sto zaino da guerra? E' il padre militare! Fermati, ti ho giro intorno! Fermati! Mi concedo in un'intervista? Ah, ok! Mi concedo in un'intervista? Eh, dicami! Non hai portato il sasso? Sì, perché devo fare privato! Mi devo portare pure lì! Ma sono grandi! Ma poi che scarpe!